È un momento davvero storico, oggi 14 giugno finisce l'era di Piazzale Boschetti che per ora diventerà un parcheggio, come vedete alle mie spalle. In attesa dunque delle valutazioni idrogeologiche dei saggi relativa all'area di Piazzale Boschetti che dovrebbero arrivare per la fine dell'anno, lo spazio sarà adibito a parcheggi ben 120 gestiti dall'APS. A seconda dell'andamento delle falde dei terreni, dati consultabili online anche sul sito del Comune, verrà pianificato e studiato l'intervento strutturale sull'area, in ogni caso edificabile per un massimo di 34.000 metri cubi. Che venga realizzato o meno l'auditorium della musica, l'ex area Boschetti, prima di proprietà provinciale e oggi comunale, sarà dunque comunque edificabile in un'area verde, anche eventualmente se l'area venisse allenata, come da oggi è possibilità delle amministrazioni pubbliche con il federalismo demaniale. Verso settembre si libereranno anche queste palazzine che ospitano servizi che verranno traslocati ovviamente nella nuova sede dell'intermodale e quindi da oggi abbiamo finalmente questa riconquista dell'area. È una vastissima area di 14.000 metri quadri che ospitando l'auditorium per circa 11.000 metri quadri con un bellissimo deor che dal punto di vista paesaggistico darebbe all'acqua e alle mura un'altra nuova grande personalità. Questo è il futuro entusiasmante di Padova. In attesa intanto del parere della provincia e della Camera di Commercio che sono state coinvolte dal Comune, è arrivato lo scorso 7 giugno il parere favorevole dell'Università di Padova sulla realizzazione dell'auditorium. Intanto tutta l'attività del terminal dell'ex piazzale Boschetti è stata spostata da oggi a fianco della stazione, dove sono state predisposte 14 corsie per 52 linee che collegano la città, la provincia e le altre province venete.